Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 direzione Bologna chiusura i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio A1 variante Baccheraia e Aglio in vigore fino al 30 aprile. Chiuso il tratto lungo la strada statale 62 della Cisa al km 15 e 600 in entrambe le direzioni ad Aulla, massa Carrara, a causa di un incidente che coinvolge tre veicoli. A Firenze incidente sul viale Michelangelo nei pressi di via Collucio Salutati con restringimento di carreggiata. Deviazioni segnalate in loco. Per il trasporto pubblico locale è in corso per marzo e aprile la sperimentazione tariffaria per l'abbonamento mensile integrato intermodale sulla tratta Pontasieve-Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!